il trono della contessa e lì la piotta che ha messo il gargamella cazzo va su va dentro e diventa sempre più fondo vabbè ora metti un'altra piotta che va via dritto ma devi trovare un'altra così larga per buttare dentro di questo e si chiama lui e devi spostarla e anche lì vada cosa ha scavato via vuol dire che arriva fino sopra qua è passata di là perché è passata di là quello deve arrivare che lo buttate dentro se ce lo butta lì va bene se ce lo butta in mezzo canzulare sembra che sposta quel foglio lì ma perché non lo so ma che quella ghiaia lì e quei sacini non c'erano mai se ci fosse un peccato lì si potrebbe fare quel burro è quello è quello che c'è sotto la che tale qua esatto ora ho anche quello là di sopra non ce la farà mai non ce la farà mai va bene vado dentro di lì da questo pilota se non cado giù pensare che forse lo dici con un dito anzi io Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Flessibile, per favore. Questa era la scaletta, lo dovrete riportare su, per forza. Grazie a tutti. 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 E' passata anche sopra qua l'acqua. Aiuto. Aiuto. Cucu. Ma ti dà le chiavi. Ma non ti dà le chiavi. Ma ci dà le chiavi. Ma ci dà le chiavi. è pericolosa oggi. E' pericolosa oggi. E' pericolosa. è pericolosa. è pericolosa.